Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guerzi. Sì, Flavio. Ciao a tutti. Oggi il buon Flavio ci porta le sue opinioni su questo smartphone, ovvero sul Realme 8 Pro, che in tanti ci avete chiesto all'interno dei social. È arrivato il momento quindi di parlarvi di questo smartphone. Come sempre ragazzi, mi raccomando, qua sotto supportateci con un bel tasto mi piace, condividete il video e iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdere tutte queste recensioni che devono arrivare nelle prossime settimane, nonché anche i Versus, perché abbiamo già intenzione di mettere a confronto un bel Realme 8 Pro con Redmi Note 10 Pro, visto che entrambi hanno due ottimi pannelli AMOLED. Adesso mettetevi comodi che vi raccontiamo tutto. Partiamo subito dalla cosa principale, no Flavio, quindi dall'estetica e il design dello smartphone che ahimè nella nostra unità ci è arrivato nero. Vero, ho visto che in rete ci sono molte colorazioni carine, a noi è arrivato nero. Ti dirò, allora, per come sono io, non incontra totalmente i miei gusti, però da qui a dire che è brutto ce ne passa. In realtà è un prodotto piuttosto, lo vedo, un prodotto piuttosto giovane, un prodotto fresco, no? È comunque qualcosa di diverso, perché la back cover è molto carina, ha un bel trattamento ruvido, che è molto piacevole, si tiene bene in mano, il materiale è plastico, però è di ottima qualità, è assemblato bene, il bump delle fotocamere può piacere, non può piacere, fa un po' piano a induzione, però secondo me nell'economia generale del telefono ci sta. L'unica cosa forse che non mi fa impazzire è il mento un po' pronunciato in basso, quello magari... Vero, scritta in rilievo, almeno quando la sto sentendo io in questo momento, la cosa che a me non è piaciuta è lo scalino, tra il display, lo senti? Tra il display e la scocca, a me queste cose... A me non disturba invece. A me disturba tanto, come il mento, in effetti hai ragione. Ma perché io le uso con le cover, è per questo meno accorso. Senza cover lo senti. Mentre mi è piaciuto il peso, molto... si tiene bene in mano questo realme, bombato. Sono 176 grammi, per uno spessore di 8,1 mm, quindi è contenuto insomma. Dual sim con espansione? Dual sim con espansione. C'ha il jack da 3,5 mm nella parte inferiore, ingresso Type-C, audio e mono, non è stereo, esce solamente nella parte inferiore. Allora, la tua ricezione con Vodafone nella tua cantinetta, come è andato lo smartphone? Allora, dentro casa, come sempre, come sempre isolato, no. Ha preso? Vicino alla finestra della cucina, sì. Ok. La ricezione è buona. Attenzione, non sono riuscito a vedere il 4G in funzione con Vodafone, il 4G+. Il 4G+, scusate. Quindi avevo letto da qualche indiscrezione che dovrebbe avere l'aggregazione delle bande, purtroppo nel mio caso non ve lo posso confermare perché appunto mi sono anche spostato nel tragitto casa-lavoro, che tra l'altro è l'unico che possiamo fare, quindi... E niente, niente 4G+. E secondo me è un peccato ed è una cosa che a mio avviso c'erano già incappati nel Realme 7 Pro. È vero, ce l'avevano segnalato questa cosa. Cioè, è una cosa che secondo me è poco perdonabile. È molto importante anche perché adesso questa fascia di prezzo a cui viene venduto Realme 8 Pro, lo possiamo anche dire, 259 euro nella variante standard, prezzo lancio Amazon, 279, togliendoli spiccioli. Insomma, c'è una bella giungla adesso di smartphone, tra quelli che calano, tra i nuovi arrivati, tra uno che è arrivato adesso, eccolo qua, Poco X3 Pro, quindi ragazzi, più oramai gli smartphone... E questo è un altro Versus che ci chiederanno in mille mila. Fatecelo sapere se volete anche un Versus tra questi due smartphone, quindi la concorrenza è veramente spietata. Batteria 4500 mAh, ricarica rapida, con caricatore in confezione. Il caricatore è da 65 W, la ricarica in realtà viene fino a 50 W. Ci mette 17 minuti a caricare fino al 50%, 47 minuti a caricare il 100%, quindi davvero molto veloce. E la batteria dura tanto, sono riuscito a fare tranquillamente tra le 6 e le 7 ore di schermo in media, con uso misto e per il mio utilizzo sono tante, anche perché non scalda, non va giù in modo particolare la batteria con un uso intenso. È gestita bene dal software che ricordiamo essere basato su Android 11 ed è la nuova Realme UI 2.0. Quella ti è piaciuta mi sembra, ma l'avevi parlato male. Mi è piaciuta molto, è ovviamente la sorella gemella della ColorOS 11 che avevamo già tanto apprezzato. Non sai cosa mi è piaciuta? È un'interfaccia pulita, essenziale. È un'interfaccia molto stabile, affidabile. Non ho avuto nessun bug, ma neanche rallentamenti. Parliamo di un telefono con lo Snapdragon 720, quindi non l'ultimo ritrovato, neanche un mosso di potenza. G? G sta per gaming, però il gaming è possibile più che altro grazie alla scalabilità dei giochi, più che alla potenza del telefono. Però devo dire che è fluido. Ovviamente non è velocissimo, si sente lo stacco già con un 765. Certo, fa quello che deve fare su questa fascia di prezzo e sulle sue caratteristiche. Ma io mi aspettavo in realtà qualche lag, perché appunto avendo già provato il 720 su altri dispositivi mi aspettavo peggio. Invece è molto molto fluido. Patch di sicurezza? Patch di sicurezza di febbraio. Ok, abbiamo Android 11 ovviamente a bordo dello smartphone. La particolarità forse anche del telefono è il display. Un display AMOLED, non a 120, non a 90, ma ci fermiamo a 60 Hz. Display AMOLED abbastanza luminoso sulla carta, si arriva quasi ai 1000 nits sul picco massimo. Mi raccontavi che hai avuto però qualche difficoltà sotto l'ucidetta del sole. Allora, sabato scorso sono andato a fare qualche foto con questo Realme e mentre scattavo le foto ho avuto un po' di difficoltà contro il sole effettivamente. Non è pessimo, però ecco, avendo letto 1000 nits pensavo fosse un po' più leggibile. Comunque nel 90% delle situazioni è assolutamente usabile ed è anche un bel pannello perché i colori sono belli. è piuttosto vicino alla superficie del vetro, quindi da una bella sensazione di stampato. Insomma, comunque mi è piaciuto. Però va sottolineato che la luminosità massima forse in condizioni normali, che sai il picco massimo lo raggiungi, con una porzione di schermo inferiore illuminata, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che all'atto pratico non sarebbe guastata un po' più di luminosità, ecco. Allora, parliamo anche della fotocamera e della videocamera. Fotocamera, sensore principale da 108 megapixel, quad camera per quanto riguarda questo Realme 8 Pro, hanno puntato tanto su queste 108. Come l'hai trovata? Allora, il sensore è il Samsung HM2, ISOCELL. Devo dire che mi ha stupito, in positivo. Già conoscevo questo sensore, l'avevamo già provato su tanti altri telefoni, però è gestito bene da questo Realme. Quali sono i punti di forza? Sicuramente l'hai visto anche te dalle foto. La definizione molto buona, i colori molto buoni, un po' in tutte le condizioni di luce, anche se ovviamente, diciamo, fino alle mezze luci, perché poi al buio totale ovviamente impasta un pochino, no? Anche la modalità notte fatica, però parliamo appunto di un telefono abbondantemente sotto i 300 euro, per cui si comporta molto bene. I video che arrivano fino al 4K a 60 fps non sono molto stabilizzati. C'è una modalità stabilizzata, quindi una modalità ultra steriche, diciamo, in full HD a 30 fps, che migliora moltissimo la stabilizzazione, d'altro canto però peggiora la messa a fuoco, quindi ti ritrovi a dover... Ha fatto più fatica a mettere a fuoco. Sì, ho dovuto tappare col dito perché sennò non metteva a fuoco. Però diciamo che non essendo un top di gamma è una cosa perdonabile. Le foto comunque sono buone, no? La ultra wide invece cala parecchio a livello qualitativo. 8 mega. 8 megapixel e niente, va bene come divertimento. Da contorno. Sì, sì, foto di paesaggi in piena luce perché di sera effettivamente cede un po' il fianco. Le altre due sono la solita cam di profondità e la solita macro che personalmente non utilizzo. Potrebbero levarle quasi, fai due camere, le fai migliori, non lo so però... Sì, oppure le fai finte, sai tipo telefoni di Wish. Uguale, due camera, due sensori che ci sono e non ci sono. In effetti anche io uso molto poco queste due camere. La frontale invece è da 16 megapixel, tranquilla, senza il frame, senza l'ode. Diciamo dunque più un camera phone, cioè più un telefono adatto alle foto rispetto ai video. Sì. Quindi ragazzi avete capito, questo è il nuovo Realme 8 Pro. Noi vi aspettiamo qua sotto, ovviamente nel box dei commenti, un telefono che vi ho detto troverà vita difficile perché sono tanti competitor, Redmi, Poco, Xiaomi. Quindi forse secondo noi farà abbastanza fatica questo Realme 8 Pro, oppure non lo so. Fateci sapere la vostra opinione qua sotto, come sempre nel box dei commenti. E da Guerz. E da Flavia. È tutto e noi ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao a tutti.